Ciao interni, sono Riccardo Rigolli, mi sono occupato dell'avventura del South Face di Massimo Iosaghini con cui abbiamo lanciato una sfida all'avvenire del sostenibile Mabello per lanciare una nuova sfida su una parete strutturale che possa consentire alla vegetazione e al mondo vegetale di rientrare nelle nostre abitazioni, nel nostro mondo del benessere naturale e la nostra percezione emotiva, emozionale di grande ambizione e attualità. Con questo abbiamo voluto lanciare un messaggio forte, ampiamente condiviso tra la parte architettura e la parte botanica nella quale siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo auspicato. Grazie.